Io sono nato per suonare la batteria, per fare musicista, non potevo fare altro e non sapevo fare altro. Ho avuto la fortuna e la sfortuna insieme di crescere in una famiglia dove c'erano due batteristi, cioè mio zio Gegè e Peppino, il maggiore. Adesso mi metto a studiare e faccio il batterista, faccio il musicista. Non l'avessi mai detto, mia madre, ma no, per l'amore di Dio, che mestiere vuoi fare? Questo è un brutto mestiere qua, là. Lì è scoppiata la guerra. Alla fine ho litigato con mia madre, ho litigato con tutti. Sono andato via di casa con la mia cassetta da carabiniere e così ho cominciato a suonare. La prima batteria, 35.000 lire, al mercato dei rifiuti, erano tutti pezzi americani, pezzi di batteria americana scassate. E così è cominciata la mia carabiniera. La ragazza non mi hanno mandato in conservatorio, no. E io sono stato sempre complessato, perché avrei voluto essere un musicista, scrivere arrangiamenti. Invece ho suonato, ho suonato sempre. E ho fatto l'operaio della musica. E ho fatto l'operaio della musica.